Sprofonda di nuovo in una crisi preoccupante, l'Avellino sconfitta 2-0 senza attenuanti dalla Viterbese al Partenio, per il resto tra le campane vince solo la Gelbison che ritrova sulla panchina Mr. Gianluca Esposito ed espugna il campo del Monterosi, pareggia in extremis il Giuliano, perdono invece sia la Turris che la Juve Stabbia con pochesci, ancora zero vittorie per lui da quando è sulla panchina delle Vespe. Buonasera, benvenuti e ben ritrovati a Focus Serie C, siamo in attesa che ci raggiunga Emanuele Dan qui in studio e abbiamo Annibale Discepolo, ciao Annibale, buonasera a tutti, ciao Angelo, e ritroviamo Luca Esposito. Buonasera, buonasera. 3-0 è successo di tutto, a Foggia dopo ne parleremo perché si è dimesso Gallo, l'allenatore scatenando le ire del presidente canonico, c'è stato un botta in risposta tra i due, la panchina affidata a quanto pare notizia di oggi a Mario Somma. E poi abbiamo detto della vittoria della Gelbison contro il Monterosi grazie a un gol di Uliano, Pescara-Giuliano 1-1 con Sorrentino che in extremis al 94esimo raggiunge gli Abruzzesi all'Adriatico, Picerno-Latina 1-0, Taranto-Cerignola 0-0. Altra sconfitta interna per la Turris contro il Potenza, segnato Aziosmanovic, il gol vittoria per i Lucani, Virtus Francavilla-Crotone 1-2, Virtus Francavilla prossimo avversario dell'Avellino sabato 14-30 al Partenio. Andiamo a vedere per effetto di questi risultati qual è la situazione in classifica, il Catanzaro mantiene 10 lunghezze sul Crotone, 73-63, Pescara 48, Foggia a quarto a 43, anche per questo visto il buon momento dei Satanelli sorprende questo polverone che è accaduto in casa Foggia tra Gallo e Canonico. Cerignola e Picerno 42, Monopoli 39, Juve Stabia 37, Latina e Avellino 36, Virtus Francavilla con il Giuliano e il Taranto a 35, a 33 ci sono Potenza e Gelbison, poi inizia la zona play-out, Monterosi 30, Turris e Messina 26, Viter Bese 24 punti. Attenzione ai laziali che hanno tre vittorie consecutive e fatte tra l'altro con avversari non da poco, Monopoli, il Catanzaro capolista e l'Avellino chiude la Fidelissandria con 20 punti. Questi i risultati, adesso l'editoriale di Luca Esposito. Perfetto, rieccoci, purtroppo l'Avellino ci aveva abituato bene forse dopo la vittoria contro il Crotone, poi ha perso con due squadrette, parliamoci chiaro, anzi forse il Cerignola, In casa, dicevo, del Cerignola non era facile, poi con la Viter Bese in modo inopinato. Purtroppo è una squadra che ha sempre un cammino altalenante, non riesce mai a centrare quello che è l'obiettivo. Chiaramente il quarto posto si allontana, bisogna sperare davvero che ritrovano Marconi e ritrovano un momento a vincere. Non è semplice, le squadre si fanno a luglio, e l'ho sempre detto, Marconi si era anche presentato bene, purtroppo adesso non so che cosa sia successo, purtroppo è questa la realtà. L'Avellino è addirittura giusto giusto nei play-off e quindi ha rischio addirittura di uscire dai play-off, quindi un'annata vero scelerata per gli Irpini. Mentre possiamo fare gli applausi alle due squadre neofite di quest'anno, parliamo del Giuliano, che pian pianino, un passo alla volta, sta raggiungendo la salvezza. E quindi complimenti al direttore sportivo Amodio e all'annatore di Napoli, così come i complimenti anche vanno alla Germison, del ritornato esposito che espugna una diretta concorrente, vince sul difficile campo di Monterosi, anzi è Viterbo, la verità, a Rocchi se non erro, di Viterbo. Quindi una vittoria importante che scrolla un po' le paure e allontana proprio i Valdiani dalla zona play-out, proprio a discapito del Monterosi. Mentre la Juve Stabia, da quando hai detto tu prima, con l'ingresso, con la venuta di Pokescio, non hanno vinto una partita, io non so il motivo per il quale hanno scelto questo allenatore, purtroppo addirittura la Juve Stabia da quarta finisce a settimo. Settimo è davvero una sconfitta per Castellammare perché si era già assaporato qualcosa di bello quest'anno, purtroppo ti perdi sempre sul più bello, avevamo detto sempre che ha un cammino non costante, però adesso sta diventando, scusate il gioco di parole, una costante. Ti devo riprendere invece sulla Turris perché tu avevi pronosticato addirittura il raggiungimento dei play-off, la vedo dura a questo punto. Come sempre, come sempre, sbaglia sempre. La vedo dura. Ci voleva Canello. Ci voleva un cammello, i cammello. Purtroppo su Catanzaro ci ho preso, qua invece, anche se, ripeto, la squadra, tante defezioni, tanti problemi a Torre del Greco, qua purtroppo, ragazzi, quando una stagione si cambiano tre allenatori, anzi, quattro allenatori significa che qualcosa non ha funzionato. Purtroppo Fontana non ha bacchetta magica, non ha fatto meglio del suo predecessore, di Michele. Purtroppo una sola vittoria in cinque gare è davvero poca. Adesso si fa davvero difficile per i torresi, per i corallini, per i bianco-rossi, che tra l'altro domenica affronteranno la seconda in classifica tra Nacrotone. Quindi, diciamo, sicuramente è un avversario facile. Va bene, Annibale, tra poco ti coinvolgo su Lavellino, perché dalla seduta di oggi, di allenamento, si prospetta anche la possibilità di un cambio modulo per la partita contro la Virtus Francavilla. No, voglio lanciare prima il servizio riepilogativo dei gol delle campane, così accogliamo anche Manolo Edanna, e poi vengo da te, il servizio. Decima sconfitta in campionato per Lavellino. La seconda consecutiva arriva al Partenio Lombardi, dove passa la Viterbese. Marotta con annesso errore di pane, Laziali in vantaggio al quinto minuto. Poco dopo il quarto d'ora di gioco, Moretti stende Mungo in aria. Calcio di rigore, doppietta di Marotta per l'allungo decisivo. Lupi incapaci di riorganizzarsi davvero nella sfida, e il match scorre via per il 2-0 Viterbese. Irpini in crisi come la Juve Stabia, KO a Foggia. Tre sconfitte e un pari nel ciclo di gare con Pokeshi in panchina. Dopo l'equilibrio all'intervallo, ci pensa Costa a sbloccare il risultato. Satanelli avanti al cinquantesimo e darà doppio con Ogunseie al minuto 67. Controllo delle operazioni e il 3-0 Foggia arriva al novantunesimo con Peterman. Ripartenza con Esposito in panchina e la Gelbison passa a Viterbo. Il Monterosi va a KO con la rete decisiva al minuto 17 di Uliano. Finale di 1-0 ospite. La squadra di Valo della Lucania firma tre punti preziosi in chiave salvezza. Ottimo pari in extremis per il Giuliano che va sotto a Pescara. Al cinquantesimo segna Merola per gli abruzzesi. In dieci dal sessantatreesimo per l'espulsione di Pizzari. Nel finale superiorità numerica che porta un punto ai Tigrotti. In pieno recupero ci pensa Sorrentino a siglare l'1-1. Sconfitta pesante per la Turris che rischia sempre più i play-out. Corallini battuti in casa dal Potenza. Finale di 1-0 con la rete di Asio Osmanovic che premia i Lucani alle Liguori. Turris a meno 7 dalla zona tranquilla e in ritiro. Annuncio del club dopo il KO interno. E allora eccoci, benvenuto. Un ritorno a Autochannel per Emanuele Danna. Ciao Emanuele. Ciao, buonasera. Scusate il ritardo. Non ti preoccupare. Allora, Annibale, dicevo la possibilità di un 3... Siamo in tema Massimo Troisi, quindi va benissimo. La possibilità di passare a un 3-5-2 per il match contro la Virtus Francavilla. Il sacrificato lì davanti potrebbe essere o Russo o Trotta. Quello che poi rimane farà coppia con Marconi, con Ricciardi e Tito a fare i quinti. La difesa con Moretti, Auriletto e Benedetti. I tre interni di centrocampo li conosciamo. Però io volevo dire una cosa. Abbiamo visto il servizio. Se anche Pane, che era un punto di riferimento, un baluardo di questa risalita, inizia a sbagliare, c'è davvero da preoccuparsi per l'Avellino. Sono d'accordo con te. Fammi dire una cosa a proposito di preoccupazioni. Noi ci preoccupiamo perché domani mattina avremo una conferenza stampa che sarà una break conferenza stampa perché è alle 10. Quindi insomma domani. Ma evidentemente, scherzi a parte, perché Rastelli che ha blindato giustamente un po' le operazioni, quelle da grandi manovre che ci stanno, ci possono essere, e sicuramente bisognerà provare. Mi riferisco al cambio di modulo. Insomma credo che sia più che un'opportunità, una necessità dopo quello che si è visto. Fermo restandolo, dicevamo a microfoni spenti anche con Luca e con te, condividendo questo momento dei portieri che sta però diventando, come dire, un raggio d'azione, di errori, delle classiche, come dire, sviste, anche in Serie A. Penso al secondo gol di Osimeno, un grandissimo gol, ma insomma sul palo del portiere... Oltre a Pane, Francesco Forte del Monterosi è una uscita a Camigasi proprio. Pane, Fasolino della Turris colpevole sul gol del Potenza, Sassi anche del Foggia che ha fatto comunque del Giuliano, scusa. Sassi del Giuliano è colpevole e anche Prizarri del Foggia. Quindi errori su errori questa settimana per quando la riportiamo. Ma ritornando alla domanda che mi poneva Angelo, credo che al di là di questo cambio di modulo, che sono convinto sicuramente ci sarà... A marzo. C'è bisogno di un cambio di mentalità. Sarà che staremo qui a ripetere il solito, come dire, stucchevole refrain, però insomma le partite vanno approcciate in un altro modo e vanno soprattutto giocate in un altro modo. Quello che mi impressiona un po' e mi preoccupa è che questo Pavellino che si esalta con le grandi poi insomma scivola un po'. Non perché l'avversario scorso, ultimo, fosse un cosiddetto cuscinetto. Non c'è nessuna squadra cuscinetto in questo e negli altri campionati. Però è come se perdesse i contatti, come se perdesse il senso con la realtà e quindi c'è questo, come dire, svagarsi e divagare per il campo che purtroppo poi porta a situazioni come questa. Allora scusami un attimo perché adesso proprio il collega Carmine Quaia mi ha mandato una foto di uno striscione a pazzo all'esterno del Partenio Lombardi afferma Curva Sud, promesse non mantenute, denaro sperperato, progetti fallimentari non sei fatto per il calciomercato, De Vito dimettiti. Quindi c'è la piazza, la tifoseria Erpina che chiede ancora una volta le dimissioni del DS De Vito. Tra l'altro... Aspetta. Io se fossi vivo andrei stasera, perché scusami adesso devo intervenire perché giustamente allora ragazzi il direttore sportivo De Vito ha fatto, ha avuto la possibilità allora qui io faccio il pausa sulla società qua perché la società ha messo un budget al direttore De Vito a gennaio però gli errori di De Vito non sono a gennaio gli errori di De Vito sono prima, anteriori, nel periodo del calciomercato estivo lì è stato fatto l'errore perché è chiaro che i Marconi, i Mazzocchi quelli che arrivano ad Angelo hanno bisogno di tempo e quindi sono ottimi acquisti perché il mercato di gennaio è da Avellino è otto in pagella, è il pregresso che è stato sbagliato ad Avellino Però voglio chiedere Emanuele, visto che è un mercato soddisfacente quello di gennaio come ti spieghi che le prime partite da quando sono arrivati questi nuovi calciatori sono andate bene, poi c'è stata un'involuzione tu come la leggi questa cosa? Cioè penso a Potenza e Crotone, sembrava un altro Avellino finalmente con la svolta poi Cerignola e Viterbese male Male però il campo di Cerignola è molto difficile, non è facile per quanto riguarda il mercato dell'Avellino mi riferisco a Luca Esposito le entrate e le uscite dell'Avellino tu lo sai bene L'Avellino è speso molto come budget di buone uscite e là già vai a riempire, non dico il 50% ma quasi poi dobbiamo vedere anche bene la cassa dell'Avellino i soldi che poteva spendere non solo nelle uscite ma anche nelle entrate invece a gennaio ha fatto un ottimo investimento come Marconi è un signor giocatore, soprattutto in Cerbì, in C lo sappiamo tutti ha fatto sempre bene, lo stimo molto perché giocava a Pisa sono andato a vederlo diverse volte, è veramente molto molto bravo dispiace per queste ultime due partite perché erano alla portata dell'Avellino poi sappiamo tutti l'ambiente dell'Avellino com'è inizia a diventare pesante in casa sembra che non riescono a dare il meglio questi ragazzi i primi fischi eccola la foto all'esterno del partenio ecco, i primi fischi, poi vengono pure chiamati giocatori per questa piazza perché ci sono giocatori per l'Avellino, giocatori per una squadra Monterosi, tutta questa società così però ecco, i Mazzocco, i Marconi dovrebbero essere da Avellino sono da Avellino, però come abbiamo visto prendo un gol del genere dopo cinque minuti e tutto diventerà un attimo più complicato voglio fare una considerazione che va tra il calcistico e il politico calcistico insomma, vedendo quello striscione allora, ci sono tre soggetti la società, il direttore sportivo e l'allenatore non vorrei che questo striscione fosse, come dire, nevralgicamente, strategicamente essere stato costruito per, come dire, deviare un po' le accuse che secondo me vanno divise e condivise tra tutte e tre le parti ma infatti aggiungo, al termine della partita con la Viterbese nessuno è stato risparmiato, anche Rastelli nella contestazione appunto, quindi al di là di, voglio dire, di Rastelli ma ovviamente, come diceva Luca gli errori sono stati fatti all'inizio per cui, che vada via Enzo De Vito in questo momento non ha proprio senso servirebbe, secondo me, ancora a creare ulteriormente maggiore confusione ad una situazione che da qui alla fine del campionato dovrebbe e dovrà, anzi, essere ricuscita il più possibile ma credo, oltre che con i risultati che sono necessari col buon senso perché è vero che l'Avellino è per un pelo dentro ai playoff e domenica c'è un'altra partita verità e poi vedremo, diciamo, tutte le sfide sembrano davvero, come dire, essere state cucite proprio per mettere alla prova contro l'Avellino e tutte le altre squadre quindi se però si fa questo caos per non dire casino, anzi, diciamolo solo secondo me non è una mossa intelligente e la vedo una mossa un po', come dire, artefatta non so a che cosa voglia e possa mirare certamente sacrificare solo Enzo De Vito sulla croce la vedo una cosa di cattivo gusto e anche ingiusta sei d'accordo? sì, un altro aspetto a marzo è difficile riorganizzare anche un settore dirigenziale credo, no? ormai deve finire, deve assumersi la responsabilità fino alla fine De Vito, fino a giugno e a giugno si trarranno le somme quindi nessuno nasconde gli errori tra l'altro va detto che De Vito a giugno, tra l'altro va detto che tutti i giocatori tra le altre uscite torneranno ad Avellino tutte, sono tutti prestiti quindi non solo hai questi giocatori sul gruppone ma fanno cassa, batteranno cassa a giugno, a luglio, a settembre altri calciatori che tu non hai l'hai solamente dato in prestito quindi ecco perché l'Avellino io credo io parlo di uscite che sono soldi che escono nelle tasche dell'Avellino pure per fare il mercato non è semplice anche per l'Avellino non è stato semplicissimo attenzione non erano calciatori proprio così malvagi perché hanno trovato un mercato quindi non è che è stato fatto chissà quale lavoro è stato bravo De Vito ha sicuramente visto i buoni uffici ha smistato i vari calciatori però erano calciatori comunque non male purtroppo io a De Vito dico solo che è stato sbagliato la scelta dell'allenatore già si è partito male perché io credo che una piazza come Avellino già dai un nome neofita giovane un nome che è stato sempre la Francavilla e la Taurino e arriva in una città dove vuole vincere già fai capire quali sono i tuoi obiettivi perché se l'obiettivo è prendere un allenatore importante fai capire ok l'Avellino vuole andare in B ma se tu prendi un emergente fai capire non sempre succede così però è un dato di fatto un'altra cosa non sorprende tanto che l'Avellino andasse male con Taurino a me sorprende di più che Rastelli che ha questa squadra da ottobre è anche in parte rifondata adesso con il mercato di gennaio annaspa sempre intorno alla decima undicesima posizione anche questo sorprende in negativo ha le sue responsabilità anche Rastelli ci mancherebbe io però voglio dire un'altra cosa sto qua a difendere Rastelli me ne guarderei come me ne guarderei dal farlo con tutti noi siamo qui a commentare i fatti quello che si vede e si vede anche una cosa però che questa squadra e questa è un'altra secondo me un altro punto una nota dolente che andrebbe un po' verificata ma in tutto questo bailam probabilmente sfugge questa squadra non è mai completa sempre infortunati quindi questo poverino si deve anche misurare e no ma è così ragazzi non facciamo sempre troviamo sempre giustificazione tutti ce l'hanno defezioni durante la ma di video c'è anche giocatori importanti ha giocato Rastelli ha giocato una panchina importante non è che ha una doppia squadra come ce l'hanno come ce l'hanno noi sappiamo solo i fatti di casa Avellino però ci sono tante altre squadre che hanno defezioni e noi non lo sappiamo no no è così però insomma adesso ci sono anche però giocare con Maestro a centrocampo c'è un coraggio io ricordo un attimo i nostri riferimenti telefonici 80919002 il numero verde gratuito per intervenire in diretta telefonando e poi il numero per sms whatsapp eccolo qui c'è un whatsapp buonasera che mi dite se affermo che il rigore non c'era perché l'attaccante il rigore del 2-0 della Viterbese perché l'attaccante aveva già perso possesso del pallone avendo calciato già in porta se Enrico ce lo ripropone un attimo così lo vediamo anche con Emanuele il fallo di Moretti esatto di Moretti nell'episodio del 2-0 il tempo di recuperazione sull'episodio che ha portato poi al 2-0 su Mungo su Mungo esatto Mungo vince un rimpallo e allora il tocco c'è è vero che lui aveva già calciato verso la porta il tocco c'è Emanuele che dici? è stato molto bravo Mungo lo conosco e ce l'ha lui ha calciato ha cercato proprio calciato debole ha visto che la stava bloccando una volta che ha tirato piano però il contatto c'è sì però è una volta calciato non è che l'ha distribuato però l'arbitro stava là ha aspettato se la palla entrasse ah l'assistente va bene andiamo a vedere le parole di Emanuele Mungo ce lo ripropone Mungo anche fortunato in questo rimpallo è vero lui già calcia lo rivediamo quindi non viene disturbato nell'esecuzione però il tocco c'è ma il pallone l'aveva già toccato diciamo che si può dare però questo ricordo non è uno scandalo lo è credo andiamo a vedere le parole nella slide di Massimo Rastelli nel post partita insomma un Rastelli che parla di una sconfitta inaspettata mi aspettavo un approccio diverso una sconfitta inaspettata a merito alla Viterbese che ha costruito la sua vittoria su quei due episodi del primo tempo chiaramente questa è una sconfitta diversa da quella con il Cerignola oggi avevamo la determinazione per ripartire invece abbiamo preso gol dopo due minuti abbiamo perso l'uscidità abbiamo consentito alla Viterbese di farci male una seconda volta i cori contro di me non li ho sentiti ero concentrato sulla partita anche detto la responsabilità è tutta mia per questa sconfitta però ecco non lo so Emanuele chiedo anche a te un po' riduttivo dire la partita è stata condizionata dopo due minuti perché comunque tu avevi di fronte la Viterbese ora è vero che aveva battuto Monopoli e Catanzaro ma parliamo sempre di una squadra che era penultima in classifica tu avevi ancora tutta una partita davanti per riprenderla ma è normale un allenatore cosa può dire no però ridurla dire la partita è resta condizionata dopo due minuti forse però in questo momento anche quel piccolo episodio tipo a livello mentale i fischi la giocata non hai personalità di giocare ad Avellino ci sono tante componenti che dopo diventano molto più difficili però il portiere avversario ha fatto tre o quattro interventi molto importanti soprattutto nel secondo tema anche una traversa di Moretti una parata un legno che c'è stato su Russo che si è disteso bisogno Russo poi è stata la traversa di Moretti anche Marotta ha avuto un paio di occasioni complimenti a Marotta 36 anni ma gioca al calcio con lo spirito tra l'altro non sapete che Pasquale Pane e Marotta sono grandi amici quando giocano a Benevento perfetto sono grandi amici e ogni volta che gioca i due gli fa gollo quindi è una cosa stupenda Pane gli ha fatto il regalo sì però bisogna sono amici non bisogna comunque crocifiggere solo Pane come ha detto Giuliani è un meccanismo in attenza di avere Roberto Pierno collegato via Skype difensore della Virtus Franca Villa terzino fluidificante si diceva una volta allora ce l'abbiamo quindi questa domanda la faccio dopo ad Emanuele Danna ciao Roberto buonasera ciao buonasera detto bene terzino fluidificante come si diceva una volta di spinta oggi eh sì 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 possiamo dire terzino di spinta senti è doveroso un attimo anche parlando di Virtus Franca Villa la solidarietà a mister Calabro dopo questo episodio che evidentemente con il calcio non c'entra nulla adesso sono in corso le indagini verrà chiarito tutto l'accaduto però c'è stata la solidarietà e la vicinanza del presidente Marani della Lega Pro anche la Virtus in un comunicato si è detta sgomenta so che domani si farà comunque la conferenza stampa di Calabro dopo questi spari contro la sua auto è stato colpito il lunotto posteriore con un fucile a pallini all'esterno della sua abitazione in un paese in provincia di Lecce però naturalmente credo che sono episodi che che turbano Roberto e che non c'entrano nulla con il calcio no assolutamente non non sono episodi assolutamente giustificabili soprattutto che non c'entrano niente col calcio noi siamo vicini al mister in questo momento difficile però cercheremo in tutti i mondi di fargli di fargli questo regalo per per fargli dimenticare questa brutta vicenda anche se è veramente una cosa veramente spregevole ascolta Roberto ci ritroviamo dopo quasi quattro mesi dalla partita d'andata con l'Avellino e quella fu la prima gara sulla panchina erpina di Massimo Rastelli dopo che si toccò il fondo diciamo con la sconfitta a Viterbo in cui la panchina erpina era stata affidata a Raffaele Biancolino ci fu la prima panchina di Rastelli a Francavilla l'Avellino vinse 3 a 2 allora era un Avellino in crisi prima di quella sfida adesso dopo quattro mesi ritroviamo ancora però una squadra in grande difficoltà te lo aspettavi? ma sinceramente sappiamo le potenzialità dell'Avellino e vederli in quella posizione di classifica comunque non è una cosa non è una cosa che si vede tutti i giorni sinceramente non mi aspettavo che facesse così tanta fatica però sappiamo appunto come già detto le potenzialità di questa squadra e soprattutto che sarà molto arrabbiata per il momento difficile che che passa che sta passando in questo campionato e vorrà ottenere a tutti i costi tre punti però noi andiamo lì arrabbiati come loro per la sconfitta in casa di domenica e ce la giocheremo a viso aperto iniziamo il giro con Annibale Discepolo salve complimenti comunque devo dire che questo Frankavilla insomma analizzando un po' diciamo le ultime nuove partite quattro vittorie un pareggio e quattro sconfitte a parte come dire l'alibi delle sconfitte con con le grandi insomma voglio dire però la cosa che che mi fa che mi fa pensare che quindi le mi fa scaturire la domanda che le rivolgo insomma siete al ridosso dell'Avellino insieme poi a al Giuliano che guarda caso domenica gioca in un derby con l'Algelbison che è una delle squadre in questo momento in quest'ultimo momento più in forma del campionato e poi con il Potenza pure c'è dunque c'è un'altra squadra che ha lo stesso vostro punteggio Potenza Taranto Potenza Taranto sì grazie 35 non la trovavo però mi sento di dire che siete come dire al ridosso dell'Avellino e quindi ve la venite a giocare anche perché insomma c'è anche questo come dire questa sconfitta all'andata che incoronò Rastelli e bocciò l'allora allenatore dell'Avellino Taurino e guarda caso oggi sabato si rigioca con il Francavilla e c'è un esame credo molto molto importante sotto il profilo emotivo da parte dell'Avellino per come poi è andata nelle ultime due gare quindi credo che proverete a sfruttare anche questa chance diciamo emotiva e psicologica o no? Assolutamente sappiamo come già detto che l'Avellino non viene da un buon momento ma anche noi dopo due sconfitte consecutive siamo sicuramente delusi amareggiati perché non vediamo l'ora di cambiare la rotta e soprattutto sappiamo che questa classifica questo campionato è complicatissimo la classifica è veramente corta siamo a ridosso dall'Avellino ma siamo anche a pochi punti sopra la zona dei play out quindi non dobbiamo assolutamente regalare nulla dobbiamo andare ad Avellino e giocarci la partita a testa alta arrabbiati come loro e provando a portare a casa il nostro risultato Luca Esposito buonasera senti voi siete arrabbiati come arrabbiato anche l'Avellino chiaramente cosa avete tra virgolette temete di questo Avellino a questo punto? sappiamo le potenzialità come già detto sappiamo che hanno grandi individualità davanti sono una squadra comunque abbastanza compatta che gioca a calcio sappiamo che è una squadra che comunque nelle difficoltà in casa è abituata a stare sotto pressione possiamo dire noi ripeto sappiamo delle difficoltà che stanno trovando ma sappiamo anche che andiamo ad incontrare una squadra forte quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno a giocarci la viso aperto e a fare di tutto per portare a casa i punti senti ogni inizio stagione la società stila un programma cosa va chiesto di arrivare i playoff di salvarvi qual è l'obiettivo prossimo della Virtus Franca Villa il nostro obiettivo in questo momento è fare più punti possibili per raggiungere la salvezza perché come già detto in questo campionato la classifica è veramente corta quindi finché non sei salvo matematicamente non puoi mai stare tranquillo quindi in questo momento l'obiettivo principale è fare più punti possibili una volta raggiunta la salvezza matematica che ci auguriamo possa arrivare il prima possibile ovviamente poi si vede dove si può arrivare è ovvio che bisogna sempre pensare in grande però in questo momento è importante fare punti per raggiungere il primo obiettivo della stagione per poi pensare per poi poter pensare più in grande allora prima parlavo di terzini di spinta fluidificanti e qui insomma abbiamo uno Roberto che quel ruolo lo conosce bene Emanuele Danna ciao buonasera ciao Roberto ciao Alve buonasera che pensi di Roberto Emanuele lo conosci come calciatore? De Lecce cosa parla De Lecce sì sì l'ho visto diverse volte giocare mi piace molto è una buona squadra il Frangavilla vedendo un po' le ultime due partite anche loro verranno con il dendo avvelenato sarà veramente una bella partita poi le prossime due partite come vedevo avete dei scontri diretta come Cerignola e Potenza hanno pure loro delle partite molto impegnative come state affrontando pure voi questo momento un po' delicato perché non solo Lavellino sta attraversando questo momento anche voi state più rilassati o siete più o state caricando in modo diverso oppure con serenità no ti dico quando quando lavori in una settimana dopo una sconfitta è difficile lavorare non difficile però comunque non lavori con la serenità magari dopo aver vinto una partita noi dopo Latina abbiamo lavorato intensamente come sempre come tutte le settimane per preparare al meglio la partita in casa con il Crotone poi purtroppo con il Crotone non siamo riusciti a finalizzare tante occasioni avute il risultato infatti per quel che posso dire è stato anche abbastanza bugiardo e per questo siamo anche molto più arrabbiati per non aver sfruttato tutte le occasioni che ci sono capitate in casa con una squadra comunque forte come il Crotone perciò abbiamo lavorato questa settimana sempre ad altissima intensità sempre arrabbiati ma consapevoli di poter fare comunque una grande partita perché dobbiamo assolutamente fare una grande partita per tirarci fuori da questo momento negativo Bocca al Lugo Creti grazie ascolta Roberto ma come dobbiamo spiegare questa Virtus Franca Villa dai due volti mi sembra che voi non avete vinto ancora una partita fuori casa mentre invece in casa al Nuova Arredo Stadio Arena meglio la Nuova Arredo Arena avete un ruolino quasi da promozione solo in virtù delle dimensioni di quel campo a cui siete abituati e magari gli avversari meno come dobbiamo spiegare questa disparità così evidente di punti ma sinceramente non me la sento di dire che sia soltanto il fattore campo perché sinceramente non ce la spieghiamo neanche noi questa differenza veramente abissale che c'è tra le partite in casa e quelle fuori casa e siamo ripeto sarò ripetitivo ma siamo veramente arrabbiati anche per questo motivo perché fuori casa non avendo mai vinto non vediamo l'ora di portare i tre punti a casa e faremo veramente di tutto per portare i tre punti a casa perciò ripeto dobbiamo dobbiamo dare il 110% e se non servirà cioè se non basterà bisognerà dare anche il 120% perché dobbiamo portare assolutamente i tre punti a casa che mancano fuori casa in trasferta mancano da veramente troppo tempo che quest'anno appunto non sono mai arrivati va bene allora non c'è altro per te dallo studio grazie Roberto e grazie naturalmente all'ufficio stampa della Virtus Franca Villa grazie grazie mille buona serata salve buona serata allora ci vediamo sabato esatto andiamo al primo blocco pubblicitario dicendovi che serata d'Europa Europa League Conference League la Juve ha vinto 3 a 0 contro il Nanto con la tripletta di Di Maria ed è approdata ed è approdata agli ottavi di finale di Europa League la Roma è avanti 1 a 0 con il Salisburgo al 35esimo minuto in questo momento perfetta parità tra le due squadre perché il Salisburgo vinse all'andata 1 a 0 mentre in Conference League la Lazio ha passato il turno 0 a 0 in Romania contro il Cluj la Fiorentina attenzione che aveva vinto 4 a 0 all'andata a Braga però è sotto 2 a 0 al 36esimo in casa quindi insomma i giochi si potrebbero riaprire un cammino positivo è dal Milan fino finora finora bene in Europa le italiane va bene allora andiamo in pubblicità ci ritroviamo tra poco allora rieccoci in studio la domanda che volevo fare ad Emanuele Danna prima del collegamento con Roberto Pierno è che così questi playoff per giunta che bisognerebbe vivere da protagonisti per l'Avelino diventano un miraggio ma secondo te è solo un problema tecnico anche caratteriale di questa squadra perché adesso i giocatori ci sono bella domanda guarda siamo a marzo vengono altri due mesi è bello dire aspettiamo ancora ma il tempo stringe questa squadra è stata costruita a gennaio è una buona squadra i playoff e chi arriva meglio mi ricordo una volta quando vince il Cosenza arrivò quinto sesto quinto arrivò no no ma quattro anni fa erano qui a cinque però la migliore forma la troviamo anche giocando cioè non è che puoi arrivare sotto sotto però il calciatore anche il tifoso basta una partita che si dimentica di tutto tu basta che vinci sabato va nel dimenticatoio tutto così succede guarda hai perfettamente ragione però a me mi lascia ha basito quello striscione ah ci stai pensando ci sto pensando perché non lo trovo cioè non lo trovo neanche plausibile conoscendo un po' le dinamiche del tifo avellinese questa veramente è una situazione in cui quella di sabato ma davvero senza letteratura comunque leggera e non calcistica e non fare veramente squadra fare veramente quadrato ma tutti quanti esce una cosa del genere io non cioè francamente cioè lo trovo destabilizzante non lo imputò ovviamente per stare davanti allo stadio l'ha messo qualcuno che diciamo tifa non è firmato è firmato è firmato curva sud però non lo so insomma la curva sud ha sempre dimostrato ha sempre dimostrato una maturità ed una comprensione sono scocciati ho capito si sono scocciati e vabbò e allora si devono scocciare contro tutti scusami quello lo hanno fatto domenica con la contestazione quello lo hanno fatto domenica con la contestazione se ne dovessi andare di video stasera o domattina o lunedì ma io sono d'accordo sul fatto che non cambierebbe niente non cambierebbe niente legittimerebbe dal punto di vista tecnico della squadra credo avrebbe altri alibi e quindi non ha senso quindi a sto punto bisogna vincere e basta bisogna continuare così ha detto a giugno si tranno le conti le somme è inutile fare probabilmente probabilmente sai cosa c'è probabilmente anche la tifoseria non crede più a Nibali in questa stagione cioè la piega che ha preso fa pensare ad un campionato di anonimato credo hai ragione ma almeno poi può succedere tutto nei play-off però il sentire adesso a quale è quello ma almeno cerchiamo di salvare è vero che ci stanno dieci partite ancora 30 punti ho capito ho capito che dici cerchiamo di salvare il salvabile perché se noi incominciamo a pensare ai play-out no scusate quello ci auguriamo di no non dobbiamo essere qua maleontici una volta diciamo una cosa e poi ne diciamo un'altra proprio tu no 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 io sono sempre fermo attenzione io sono fermo quello che dico il vino è finito no 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 io no puoi essere anche a bollicino non dire allora io dico questo Avellino quando abbiamo hanno vinto quei due o tre partite di fila Corande sicuramente questo l'ho detto anche io andrà nei play-off e farà bene se sarà questo Marconi mi ricordo Tutino al Cosenza l'anno della consecrazione di Tutino che vinse e poi sappiamo che vinse i play-off la finale contro il Siena ecco quindi io pensai che con Mazzocco con Marconi e D'Angelo e gli altri che sono arrivati già comunque rafforzando già una squadra di peressa già forte potessero con l'Avellino con questi elementi dare qualcosa in più a questa squadra e c'era anche l'obiettivo di poter far bene nei play-off parliamoci chiaro però purtroppo non è arrivato e quando non arrivano i risultati tutti quanti andiamo in depressione è una squadra forte è una squadra dove se ritorna Marconi perché adesso non bisogna se ritorna il Marconi che abbiamo visto all'inizio devo dire che ha battuto diversi colpi e si riesce a superarlo perché potrebbe essere anche queste due sconfitte fisiologiche e si ritornano anche se ripete a potenza ha vinto con autorità ha vinto con Clotone quindi è una squadra che ha personalità non è facile però adesso bisogna non più sbagliare credo il quarto posto sia sempre un traguardo dove si può comunque anelare e si può raggiungere punto non facciamo dei drammi io capisco i tifosi sono legittimati e hanno ragione di contestare perché sono stanchi perché le promesse scusa le promesse da parte della società ricordo a giugno quando ci fu quella messa in scena credo che erano ben altri erano non di vincere il campionato ma neanche un decimo posto c'è qualcuno che prova a chiamarci sul telefono dei whatsapp se volete intervenire o scrivete il whatsapp o telefonate all'80919002 che è il numero verde gratuito allora vogliamo passare anche un po' alle altre che dici Luca? e allora malatempo raccullo malatempo raccullo partiamo con la Juve Stavio ma che succede è vero che Pokesci è un allenatore descritto come rivoluzionario che richiede aspetta Luca fammi finire che richiede tempo però Emanuele brutta involuzione questa della Juve Stavio ora i motivi non li conosciamo per cui Colucci è andato via motivi personali però Pokesci lo sta facendo per niente bene lo sta facendo per niente bene però è un buon tecnico non è l'ultimo arrivato no no non ho detto come somma somma su 7 7 esoneri e che aspetta fai finire Emanuele vabbè gli dobbiamo dare pure il tempo per lavorare questo allenatore non è semplice perché le campane stanno un attimo inciampando ultimamente soprattutto la Juve e Sabbia ha anche un buon organico sembra strano che anche domenica ne ho riuscita a portare a casa un tempo affoggia un tempo no io l'ho vista no nel senso che tutti i gol sono arrivati nella ripresa però già sofferto nel primo tempo però lì c'è un vizio di fondo secondo me che anche non so se alla base non lo so non lo posso sapere se alla base delle dimissioni di Colucci il mercato di gennaio Luca l'abbiamo sempre detto questo è stato insufficiente è stato carente e le sta pagando le conseguenze la Juve e Sabbia no? eh sì ho detto la rivoluzione la faceva Copernico non la faceva non la fa questo Mozzipocheschi cioè sinceramente io avrei non so il motivo per il quale è andato via Colucci anche perché la squadra non stava facendo male non è una squadra forte non è una squadra che diciamo che può primeggiare però nei playoff nel quarto quinto ci poteva anche stare Pandolfi purtroppo è venuto meno possiamo dirlo l'attaccante gli altri sono venuti meno è chiaro che poi si cambia l'allenatore viene un altro allenatore siamo sempre lì perché si è cambiato quando uno dà le dimissioni c'è sempre un motivo eh un motivo che noi non conosciamo perché non crede dalla mattina ecco mentre quella Foggia l'allenatore del Foggia Gallo ha spiegato perché è andato via Colucci non ha spiegato quindi ci sta qualcosa e quando quando l'allenatore va via si fa qualcosa non funziona è qualche altro pure qualche altro allenatore ti ricordi quando eravamo a Salerno ci spiegavano un padalino a cuore aperto perché era andato via quindi chapeau a questi tecnici che si aprono e che sviscerano quello che spesso non si dice perché poi l'errore dove è stato fatto che lo scusa a Castellammare l'attaccante l'attaccante doveva arrivare un attaccante perché è stato preso questo Santos chiaramente in prova è venuto stava lì si allenava ha fatto gollo ha fatto gollo e poi è scomparso di Rade non è stato ceduto già a gennaio quindi già questo significa che se si è investito male su un giocatore che non è andato però vuoi prendere un attaccante importante però sono in tanti che lo stanno rendendo perché la batteria che hanno lì davanti Silipo Bentivegna che avevano Silipo Bentivegna Pandolfi lo stesso Ziconi sono attaccanti da qui da qui ti aspetti qualche gol in più sicuramente significa anche il centrocampo non funziona la difesa la difesa a volte Mignanella abbiamo detto lo stesso Ricci a centrocampo che è un giocatore tra l'altro poi si dice è imparentato con Somma tra l'altro sembra il suo se non erro è sicuramente questa è la situazione però io credo che la Juve Stabia non doveva vincere quest'anno l'ha detto il Presidente hanno un programma sperando che la Juve Stabia possa davvero nei prossimi anni di salire tra l'altro abbiamo sentito settimana scorsa il socio Langella non il Presidente Andrea il socio molto arrabbiato manifestato anche propositi di lasciare quindi non c'è un bel clima intorno alla Juve Stabia in Sede C è difficile fare calcio in Sede C i Presidenti buttano soldi quello è il concetto se poi ci mettiamo a Castellammare hanno capito hanno capito perché quando sulle processi hanno visto che poteva scomparire la Juve Stabia è una piazza dove hanno sempre contestato quest'anno invece vanno bene anche questi risultati altalenanti perché si tengono stiti il Presidente uno che vuole fare calcio e ci mette i soldi ragazzi però evidentemente i soldi fammi dire evidentemente i soldi è il caso della Juve Stabia i fatti lo dicono lo sarà anche dell'Avellino spero di essere smentito i soldi li mettono ma non li mettono bene che questa Juve Stabia se andiamo un po' ad analizzare lo score l'ultimo score cioè la Juve Stabia nelle ultime quattro gare ha fatto tre sconfitte e un pareggio e nonostante questo sta sempre là quindi cioè c'è qualcosa che non funziona poche esci poche esci gli dobbiamo dare giustamente diceva Emanuele tempo ma un po' di tempo perché il campionato si sta assottigliando non ha la squadra che c'è il Foggia a Juve Stabia Gallo ha lasciato una squadra la signora squadra esattamente a Juve Stabia è tutto un altro tipo di squadra un altro organico ragazzi stiamo parlando di due squadre sono numeri diversi andiamocela a sentire allora le parole di Sandro Pochesci nel post partita di Foggia abbiamo grado ma non c'è quella convinzione non vedo la convinzione anche di quando tiriamo un metro dal portiere non vedo quella cattiveria quella determinazione dobbiamo dobbiamo imparare in fretta perché la classifica comincia a non piacermi e quindi questa squadra ha delle qualità che deve mettere in atto però certe partite vanno vinte anche con cattiveria e con rabbia evidentemente ancora non sono entrato in una loro testa evidentemente c'è qualcosa da correggere evidentemente bisogna rimettere tutti in discussione per primo io quindi anche i miei principi le mie idee devo capire con loro qual è il problema perché io non posso pensare che una squadra al primo errore va sotto e non riesce a riprendere una partita e da domenica non ci sono più né se né manche se incontreremo la squadra che deve vincere il campionato e che però noi dobbiamo guardare il nostro cammino e quindi dobbiamo preparare la partita al meglio 36 punti di differenza in classifica tra Juve Stabia e Catanzaro prossimo avversario prossimo avversario Pocasci Annibale però intravede che non c'è sintonia con i calciatori lo ha detto espressamente non gli sono ancora entrato nelle loro teste si si questo è un'accento di Pitagoro ma scusi un attimo il calcio è così semplice metti allora se tu vuoi ma è anche una questione di empatia con i giocatori allora significa lui il problema è suo voglio dire che empatia ci vuole questo è il gioco del calcio metti il pallone al centro e gioco al calcio se giocate come volete voi ecco è inutile fare troppi teoremi non devo ancora inculcare nella testa di me qualche cosa e finire il campionato cerchi di salvare la stagione e punto voglio dire amen il Giuliano invece il Giuliano come diceva Luca si avvia pian pianino verso la salvezza anche qui con risultati soprattutto nell'ultimo periodo un po' altalenanti tra l'altro Sorrentino non è nuovo adesso non ricordo quale altra partita secondo gol ma sempre al 94esimo minuto dopo che è arrivato nel mercato di Genaro dalla Gelbis è già la seconda partita è già la seconda partita che la decide lui in extremis Giuliano con tutte le difficoltà del caso lo stadio venire sempre qui ad Avellino a giocare le partite casalinghe ha avuto delle difficoltà però ha costruito questa classifica nella prima parte di stagione adesso la deve solo puntellare no Emanuele ma pure l'anno scorso fece così sembra Giuliano è neopromossa R&D ah sì sì Giuliano sì sì no no ma sta facendo il suo campionato il Giuliano a me l'ho visto un paio di volte la squadra quadrata il suo cammino è questo qua sanno che stanno valorizzando diversi giovani il primo anno di Lega Pro a me sta piacendo mi ha levato moltissimo è normale cambiando di Lega Pro senza stadio è sempre difficile secondo me è vero è vero insomma Pescara poi un campo sempre ostico parliamo della terza forza del campionato per quanto il Pescara non stia esprimendo questo gran calcio però recuperare una partita e non è la prima volta al di là di Sorrentino che il Giuliano recupera partite nei minuti di recupero sintomo di grande combattività no? e di gaiardia di questa squadra sì e però domenica c'è ecco a proposito di incroci che dicevo prima c'è un bellissimo scontro bellissimo ma anche ad altissima tensione appunto Gelbison Giuliano quindi anche la Gelbison si gioca una fetta di salvezza sì è vero a 33 punti e il Giuliano a 36 quindi voglio dire 35 è 35 quindi ecco sarebbe anche sicuramente una partita da seguire ragazzi Giuliano ha fatto lo chapeau a questa squadra perché ha giocato tutto l'anno ricordiamo ormai siamo alla fine anche qui è stato gestito male anche il discorso stadio fino alla fine a marzo gennaio febbraio è chiaro che il Presidente già ha detto Mazzamauro ha detto ragazzi le cose vanno bene perché non posso sempre i tifosi quei pochi che arrivano vanno ad Avellino si sobbarcano quindi poverini poi il Presidente che purtroppo deve non solo perde l'incasso ma deve anche pagare lo stadio di Partenio quindi è chiaro che non si può andare avanti così però è stata una favola piacevole quella del Giuliano perché una squadra operaia è una squadra con un budget importantissimo forse si è un po' indebolita col mercato di gennaio si è un po' indebolita perché no si è indebolita perché Palli ha dato solo Nocciolini che tra l'altro voleva giocare con continuità anche perché loro fanno molto minutaggio quindi anche questo è importante va detto però io sinceramente una squadra operaia una squadra che ha un punto dall'Avellino significa che hanno fatto un capolavoro però devo dire che tra tra diciamo le neopromosse le due campagne sono quelle che non hanno deluso e la Gelbison appunto sono due squadre la Gelbison con il mercato invece è stata rinforzata perché ha messo un po' diciamo di sostanza in attacco soprattutto in attacco di maggiore qualità dopo parliamo della Gelbison con mister Gianluca Esposito che avremo collegato via Skype andiamoci a sentire allora a proposito di Giuliano anche le parole del tecnico di Napoli nel post partita dell'Adriatico voglio ringraziare i ragazzi per il regalo che mi hanno fatto è tutto merito loro di questo grande risultato perché abbiamo ottenuto un altro pareggio che oltre l'Extra Time e non meritavamo assolutamente di perdere una partita del genere abbiamo fatto nella partita l'abbiamo credato tanto come al solito e ci andiamo a casa soddisfatti del punto perché far punti a Pescara oggi era un onore per noi giocare nel campo di Pescara che fino a qualche anno fa giocava in Serie A oggi abbiamo fatto una grande partita i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di che pasta sono fatti noi stiamo onorando la maglia del Giuliano lo stiamo onorando bene non meritiamo determinate critiche in certi momenti anzi secondo me questi ragazzi non l'allenatore a me non importa ma la squadra va aiutata sempre perché noi stiamo rappresentando Giuliano e lo stiamo rappresentando con grandi coi di sotto e allora anche qualche espressione un po' colorita da mister di Napoli però insomma evidentemente questa squadra sta veramente dando l'anima il Giuliano nulla da dire come diceva anche Luca Esposito solo complimenti per il Giuliano complimenti che purtroppo non possiamo fare alla Turris Luca e insomma Fontana non ha avuto l'impatto il capo di cenere Fontana non ha avuto l'impatto sperato come i suoi predecessori e adesso mi sembra siano 7 i punti dalla zona salvezza se Enrico mi rimanda un attimo la classifica 7 punti difficile da recuperarli 26-33 ragazzi i suoi predecessori no no mi colpiva mi colpiva mi colpiva il sostantivo di Angelo i suoi predecessori e beh insomma sì è vero hai ragione e devo dare atto a lui ma solo lì Caneo doveva rimanere attore del greco perché lui aveva aveva formato un bel gruppetto quindi non è stato neanche propedeutico per Caneo che è andato a Pato non lo so secondo me non ha avuto delle assicurazioni Caneo dalla società no voleva qualcosa in più e si è chiamato al Pato mi chiama il Pato quanto rispetto però diciamo il passo più grande c'è stato il mito dei vinti di Verga che diceva quando vuoi fare il passo più grande della gamba poi ti fai male devo dire che stranamente con Luca stasera non mi trovo perfettamente d'accordo perché bastava crederci un po' in più ma secondo me Caneo ci credeva ma per crederci e per fare meglio mi dico Luca sicuramente non mi smentirà aveva chiesto non delle grandissime cose ma delle garanzie io so che lui voleva andare lì a prescindere perché però lo si sarebbe voluto convincere lui voleva fare capito voleva pensava perché c'era anche qualche club di B che aveva e poi giustamente l'ambizione è anche giusto legittima ma anche lì c'è Colantonio che ha annunciato che a fine anno vuole lasciare la presidenza ma anche lì poverino costi importanti anche per una piazza come Torre del Greco e la classifica non aiuta diciamo a ricompattare un po' l'ambiente ma io guarda Angelo io dico che è una questione di metodo e di gestione perché se consideriamo quello che è fondamentale per chi fa calcio e cioè la consistenza la potenza la solidità di una società che non è solo quella del Presidente ma anche di quello che gira intorno e scusatemi Torre del Greco è una città ricchissima e quindi il calcio lo si può fare e lo si è dimostrato in due anni diciamo di sorprese sorprendenti quindi bisognerebbe tutti il Presidente in primis sempre se ne abbia voglia perché se non ha voglia fa bene a fare armi e bagaglie ma è un peccato è una squadra non mangi cioè ragazzi poi Maniero poi spreca quel gol che poteva Turris in difesa fa acqua il portiere ha sbagliato il portiere anche il portiere la Turris fa acqua l'abbiamo visto tante volte poi mi sembra Fasolino il portiere della Turris l'alter ego di Perina e poi scusatemi che deve fare Fontana se Maniero a tu per tu di testa mette alto anche se Maniero con il Potenza non bisognava far dire perché questo era uno scontro diretto valeva sei punti sta partita non si può sbagliare questi gol è chiaro che poi prendi poi il Potenza che ha giocato una partita non ha rubato nulla secondo me poi l'errore anche del portiere il gol del Potenza vedete il gol del portiere che fa mamma mia non so se l'azione ha fatto una topica pazzesca sul gol di Aziosmano vicino al secondo tempo quindi voglio dire cosa vogliamo dire la Turris purtroppo però si posso la mia porus che se sta squadra va nei play out rischia di retrocedere perché ci sono dei calciatori che non sono abituati a quel tipo di carriera questo va detto anche questo perché ci sono giocatori che non sono abituati a lottare per un retrocedere voi vedete è arrivato Zampa è arrivato è arrivato Miceli in difesa comunque una squadra non male è chiaro che se tu ti trovi a lottare lo spetto della retrocessione in due partite di gioco una stagione rischia davvero di scendere ecco perché io mi auguro che Fontana possa nelle prossime partite non dico a domenica a Cotona però nel calcio tutto è possibile di tornare a vincere perché si fa difficile allora lo hai chiamato Fontana andiamocelo a sentire sento delle cose strane intorno alla squadra che sono tutte affermazioni forbianti che non hanno un briciolo di verità tipo una società assente che non c'è e non è vero una società che comunque è sempre presente tutti i giorni intorno alla squadra sta mantenendo gli impegni è una squadra che sta facendo di tutto per cercare di portare a casa il risultato ci sono dei momenti come spesso capita nella vita quando tu fai lavori tanto e riesci a raccogliere poco e questo è uno di quei momenti dove la squadra sta cercando di fare tanto come ha fatto anche oggi tanto e non ha raccolto nulla e sì le parole di Fontana vanno un po' nel senso che dicevamo prima c'è un ambiente un po' destabilizzato che sicuramente non aiuta la squadra poi in campo la domenica il sabato quando è non aiuta sentito sento voci di una società assente insomma vabbè questi sono i recchiati però queste cose poi influiscono la squadra è bravo io credo che il mister lo conosco benissimo tra l'altro ha anche compiuto gli anni l'altro ieri purtroppo la squadra non gli ha fatto il regalo io l'ho fatto il regalo ho fatto gli auguri non è un regalo quello non è un regalo quello non è un regalo è un regalo del senso no capo che questi auguri è una iattura no dopo la sconfitta che ho fatto gli auguri quindi mi auguro che i miei auguri dal prossimo già a Crotone la Turis possa fare risultato mi piacerebbe vederla nei play out vogliamo andare in pubblicità non prima però di dirvi cosa stanno facendo in Europa League e Conference League allora Annibale è contento perché la Juve ha vinto lo sappiamo però con le tre marie questa me la gioco prima del la Roma è 2 a 0 con il Salisburgo al 47esimo quindi in questo momento sarebbe qualificata mentre la Fiorentina ha accorciato 1 a 2 al Franchi è appena iniziato il secondo tempo a tra poco con Focus allora rieccoci rieccoci studio terza e ultima parte di Focus C tra poco parliamo anche un po' del caso Foggia perché insomma merita un po' un approfondimento intanto però ce l'abbiamo mister Gianluca Esposito eccolo qui ciao mister buonasera allora in studio abbiamo buonasera in studio abbiamo Emanuele Danna Luca Esposito e Annibale Discepolo posso partire subito io non sa no voglio fare prima io no lo sai perché perché hai detto il fatto di Foggia mister se un presidente domani il presidente della Gerebison ipotizziamo andiamo nel nel metaverso no il presidente del anche se non può succedere voglio dire ti dicesse deve giocare Luca Esposito di Annibale sulla fascia tu cosa come reagiresti dare la dimissione non accetteresti faresti finta di nulla non accetteresti o quindi continueresti l'avventura a sedere sulla panchina oppure faresti come ha fatto giustamente Gallo allora nell'ipotesi che hai fatto tu se un presidente vuole imporre delle scelte ad un allenatore credo che l'allenatore debba dimettersi quindi ha fatto bene allora Gallo se come dice se la situazione è questa se questa è la di Gallo lo ha detto in diretta non credo fosse matto perfetto senti mister ma veniamo un attimo a questa partita con il Monterosi bisognava ripartire con il piede giusto e l'hai fatto avete vinto uno scontro salvezza fondamentale no? sì in questo momento del campionato le partite sono tutte importantissime a maggior ragione quelle contro le squadre che hanno più o meno il tuo stesso obiettivo e più o meno gli stessi punti in classifica il Monterosi aveva esattamente gli stessi punti nostri in classifica quindi è stata una vittoria di un'importanza capitale detto ciò non abbiamo fatto ancora nulla mancano ancora dieci partite e la lotta per tirarsi fuori dalla situazione di play out e per raggiungere la salvezza diretta è agguerrita è già sabato avere un'altra partita importantissima che squadra hai ritrovato mister? una squadra vogliosa di vincere ma che aveva perso un po' la confidenza con la vittoria e soprattutto con la ricerca della vittoria ma io ritengo che questa sia una squadra dai contenuti tecnici molto molto elevati e che quindi vada lasciata libera di giocare per proporre il gioco Annibale per il mister mi ha colpito l'ultimo passaggio che il mister ha fatto e stranamente lo aveva fatto io lo avevo condiviso poc'anzi anche Luca Esposito a proposito dell'Avellino di questo momento no i giocatori in alcuni momenti vanno fatti anche giocare ma non è sicuramente il caso di Massimo Rastelli però le volevo dire innanzitutto complimenti questa però è una squadra che veramente lei fa bene a non distribuire ottimismo e quindi a rimanere e a far rimanere sul pezzo i suoi ragazzi cioè sulla concentrazione sulla tensione da poi trasformare in campo in prestazione devo dire che però insomma guardando le ultime partite veramente il cammino è stato ottimo perché a parte la sconfitta col Potenza il pareggio quattro pareggi con grandi squadre l'ultimo prima della della vittoria sì è fatto non puoi dire che è stato un cammino ottimo perché è stato esonerato il desanzo quindi sì è stato importante è stato importante e no ma tu non vuoi fare il processo alle intenzioni non è stato bisogna vedere anche il peso specifico di alcuni pareggi ho capito mi sono esonerato fai completare un attimo voglio voglio completare questo se mi fai finire se hai la compiacenza non dico l'educazione di farmi finire l'educazione c'è l'opera ma questo lo dice se no non ci sarebbe stato qua esposito non perdiamo altro tempo ecco allora ecco vengo al dunque così 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 passiamo dico il primo esame che è stato fondamentale è stato quello di aver battuto il il Monterosi benissimo batterlo anche in casa sua uno scontro salvezza scavalcarlo e adesso c'è purtroppo devo dire lo dico da campano c'è uno scontro fratricida con il Giuliano alla fine solo uno resterà come come recita Highlander no e quindi a questo punto avete l'ulteriore occasione nel caso vinciate di praticamente attestarvi in una situazione di una condizione diciamo di tranquillità che però ovviamente non vi inviterà poi a mollare quindi lei bisognerà che rincari la dose quindi questa partita questo derby prossimo come lo vede e soprattutto come l'ha preparato ai suoi ragazzi noi giocheremo per l'obiettivo vittoria chiaramente con i dovuti accorgimenti con gli dovuti equilibri sapendo che il Giuliano è un'ottima squadra viene da un ottimo pareggio a Pescara e da una brutta sconfitta immeritata contro il Monterosi questo però guardando la classifica la classifica è molto strana se noi dovessimo fare il risultato pieno guardando le altre partite scavalcheremo sicuramente almeno tre squadre visti gli scontri che ci sono domenica ed è un obiettivo che ci stiamo stiamo cercando di inseguire quello di cercare una posizione di classifica più tranquilla e chiaramente per farlo dobbiamo cercare assolutamente la vittoria tornando al discorso di prima perché ho detto che era una squadra poco abituata alla vittoria nelle ultime 19 partite prima di Monterosi la Gelbison ne aveva vinte solo due e due in 19 gare è obiettivamente oggettivamente poco per ottenere la salvezza diretta però è anche vero mister che c'erano pareggi importanti contro Crotone contro Crotone contro Avellino io questo intendevo dire hanno giocato ha fatto pareggi con altre squadre hanno perso 5 a 1 con il Monopoli in campo siamo d'accordo Luca però intendevo dire che c'è pareggio e pareggio è vero che bisogna ritrovare l'abitudine alla vittoria per cui mi piace il tuo equilibrio con i tre punti con i tre punti però noi nei minuti in cui abbiamo l'ospite dobbiamo far parlare l'ospite più di noi allora mister ti faccio salutare da Emanuele e da Anna ciao Gianluca era quello che volevo fare lo volevo fare Emanuele ciao mister ma questo Avellino come lo vede che tra l'altro vi può anche aiutare con Francavilla visto che lei parlava di io credo che l'Avellino si debba aiutare da solo non debba aiutare noi perché la vittoria con il Francavilla in caso di vittoria aiuterebbe se stesso l'Avellino noi siamo a 33 se dovessimo vincere andremo al 36 a pari punti con l'Avellino poi dipende dal risultato che l'Avellino fa con il Francavilla per questo dicevo una nostra vittoria ci permetterebbe di scavalcare sicuramente il Giuliano sicuramente a raggiungere o Avellino o Francavilla o superare il Francavilla poi c'è Potenza Taranto taccheremo una delle due almeno per questo è un momento che è il campionato molto molto delicato dobbiamo ricercare con ossessione i tre punti stando però anche molto attenti che dietro corrono allora Annibale prima interrotte Emanuele quindi sentiamo prima Emanuele e poi andiamo da Luca vai vai Emanuele ciao Gianluca ciao ciao caro mi fa molto piacere che sei ritornato alla Jebison come sappiamo secondo me sei un ottimo allenatore mi è piaciuto moltissimo il gol che avete fatto non l'azione ma l'esultanza la fa capire veramente c'è il gruppo che ti vuole bene che hai creato di nuovo quel gruppo che c'avevi prima all'inizio senza motivo non so quale sono state le scelte della società però adesso vedendo adesso l'abbraccio vuol dire veramente tanto e questo significa hai creato subito un bel rapporto quello che c'avevi prima questo non è da tutti avere rapporti così così poco tempo hai sempre saputo farlo però questo veramente vuol dire tanto per un allenatore è un gesto significativo chiaramente l'esultanza di un abbraccio collettivo non me lo aspettavo mi ha fatto emozionare ed è stato molto molto importante i ragazzi credono a questo risultato che a inizio anno poteva sembrare difficile da raggiungere ci credono fermamente e io voglio tracciare loro la strada da seguire per provare a raggiungerlo tutto insieme questo obiettivo bocca al lupo Gianluca grazie Manu grazie allora c'è di fare la maldita come l'ha fatta Emanuele allora perché noi no noi no ma non lo so noi no invece ma non lo so 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 allora ritornando tornando indietro mister allora è stata fatta una leggerezza nei confronti di un allenatore che lo scorso anno ha vinto con una squadra operaia il camadista Reddi a discapita la Cavese Cavese è la squadra più forte fece davvero un campionato importante è arrivato in Serie C dopo ricordiamo il trasloco forzato a Pagani come sta adesso anche forzato ad Agropoli però per i tifosi era più di complicato spostarsi mister non la vedo più ci sta? ci sono ah ecco chiaramente vedevo allora dicevo quindi è stata sicuramente fatto una leggerezza del tecnico perché è vero le prime tre quattro giornate la squadra andava anche abbastanza male però va detto che bisognava dare tempo al mister perché molti giocatori gli otto undicesimi venivano dal camadista di Serie D e bisognava dare tempo per ambientarsi un camminando diverso quello è il concetto anche perché il suo predecessore e poi è arrivato Papa poi sono arrivati i vari non so un paio di giocatori sono arrivati è chiaro che il mister vecchio De Sanso che ha comunque il merito di aver comunque fatto punti e portato la Gerbison a livelli alti nel senso come posizionamento in classifica però Esposito era aveva il diritto di ritornare sulla panchina e di giocarsi due chance con una squadra rivoltata come un calzino perché sei giocatori sono arrivati nuovi e aveva e con questa squadra con questi elementi mister Esposito ha fatto capire in uno scondo di salvezza in uno scondo diretto vincere e convincere contro un Monterosi ricordiamo che comunque una squadra sono tutti in casa in casa difficile sentiamo i complimenti al mister Luca tornare sulle situazioni passate sinceramente non ne vedo il motivo perché non porta nulla di buono i motivi dell'esonero li conosce la proprietà io sinceramente non li conosco bene probabilmente dal mio punto di vista è stata presa una decisione affrettata ma è veramente inutile tornarci sopra bisogna guardare da qui a quello che dobbiamo fare alla fine del campionato perché sono aperti tantissimi scenari e non ci dobbiamo precludere la possibilità di raggiungere nessun traguardo perfetto grazie allora mister ti aspettiamo quanto prima anche in studio a Salerno grazie all'ufficio stampa della Gelbison in bocca al lupo per tutto mister grazie a voi buonasera ciao grazie assolutamente assolutamente allora abbiamo 10 minuti i primi 2-3 li dobbiamo spendere per il caso Foggia vediamo nella slide il botte e risposta allora Gallo non scappo via lascio perché non ci sono più i presupposti per dare il meglio fare calcio in un certo modo secondo le mie idee non mi sono dimesso per il mancato rinnovo del contratto lascio perché ho una dignità di uomo prima che di allenatore e non permetto a nessuno di calpestarla ha detto Luca presunte ingerenze le dichiarazioni di Gallo sulla formazione da parte del presidente canonico che risponde una società non può essere ostaggio dell'allenatore se è andato via vuol dire che non tiene al Foggia non ha neppure salutato il gruppo squadra se scappi è perché non hai la coscienza a posto non è stato professionale ma ce ne faremo una ragione tutto il gruppo scatola ha salutato la mattina seguente quindi sentendo sempre l'intervista rilasciata a una tv locale quindi bisogna dire cose vere caro canonico ha fatto benissimo secondo me l'allenatore andare via perché come ha detto anche il primo il mister le dimissioni sono sacrosante perché è chiaro che un'incerenza se è vero detto dalle parole noi stiamo sempre a quelle che ha detto l'allenatore è chiaro è un fatto molto molto grave però credo che non solo in questa partita cioè perché voglio dire la mia domanda è questa credo che se il presidente tra virgolette ha il vizio di diciamo di dare i nomi chi deve giocare e chi non deve giocare perché ha fatto capire che ci sono state altre situazioni doveva dimettersi prima oppure secondo me poteva anche come dicono molti tifosi del Foggia andare avanti perché i risultati comunque lo stavano dando ragione e poteva anche continuare a giugno diciamo con una setta di mano è sbagliato c'è da dire anche che Canonico aveva dichiarato Gallo aveva già chiesto il rinnovo immediatamente adesso secondo invece prima abbiamo dato la versione di Gallo ora do anche la versione di Canonico uno dei motivi alla base della decisione di Gallo pare che la società gli abbia rifiutato questo rinnovo immediato però ti posso dire cosa diceva Gallo però attenzione io non volevo assolutamente nessun contratto anche perché anzi per me diceva Gallo è meglio di finire a giugno se fai bene hai anche altre situazioni e quindi ma io voglio il contratto rinnovo e poi do le dimissioni appunto non riesco un attimo secondo me la base di questo c'è anche la partita secondo me no perché poi il presidente avrebbe rifiutato perciò ha dato le dimissioni ha rifiutato la sua proposta di rinnovo per questo diciamo e diceva che il presidente questo allenatore scusami viveva con questa spada di Damocle settimanalmente ogni partita arrivava la sconfitta sì non era manco lui tranquillo qualcosa si è rotto nella partita di Coppa Italia contro la Juve Under 23 secondo me la semifinale la semifinale quando hanno perso sui rigori sì secondo me qualcosa la semifinale forse era un obiettivo forse era un obiettivo ma io sono pure soddisfazione non lo vuoi mai sapere allora io so che è argomento di apostrofo quindi adesso si tacciano tutti l'apostrofo di Annibale Discepolo e ne vanno andare allora parto un po' dal passato dallo scorso turno e poi ci tuffiamo nell'attualità devo dire che abbiamo visto tutti un Catanzaro che ha giocato alla Djokovic ha giocato a tennis sei gol al Monopoli e poi purtroppo faccio un riferimento dell'Iliade caro caro Luca pensando a Narrami Omusa che è Carlo il nostro ex direttore sportivo del Pelide Achille nella fattispecie Massimo Rastelli con quel risultato che infiniti lutti ha addotto lutti calcistici agli agli Achei quindi ai ai tifosi nostri nell'Iliade non si parla della distruzione di Troia questo va detto ma si parla nelle Neide no no non fagli perdere il film non fagli perdere il film poi parliamo dopo a me e direi quindi altro che Iliade e che divina commedia si è trattato di una maledetta commedia con i lupi nel trentesimo trentatresimo libro e sesto circhio quindi all'inferno dove Farinata degli Uberti che è stato Lopez nella similitudine ha rosicchiato il cranio al cardinale l'arcivescovo Ruggeri degli Ubaldi nella fattispecie purtroppo alias Massimo Rastelli devo dire che un grazie però l'Abellino nonostante quello che è successo lo deve dare e dire anche a Tezzolino Capuano che ha steccato in casa col Cerignola con un risultato ad occhiali e ha consentito ai lupi di rimanere dentro i playoff e quindi un grazie anche al Catanzaro che ha impedito al Francavilla di fare punti inchiodandolo a 35 punti quindi ad una incollatura fatemi chiudere insomma con la Juve per essere proprio di attualità Gallo allora sì Gallo praticamente è un esempio di quello che non bisognerebbe vedere né sentire nel calcio arriva arriva somma arriva somma in matematica si dice cambiando l'ordine degli addenti il risultato non cambia il risultato la somma ora con l'arrivo di somma deve cambiare faccio fatica perché somma in ultime sette partite lo so deve assolutamente cambiare anche il risultato poi per i colpi di pistola però di pistola anzi no di un fucile a pallini quindi credo che si tratti più di una ragazzata comunque da condannare fermamente nei confronti di mister Calabro l'allenatore del Francavilla questo è un altro episodio che non fa bene al calcio come tutti gli episodi che abbiamo visto nelle ultime domeniche riguardanti le risse tra tifosi e via dicendo chiudo velocissimamente con la Juve che passa il turno in Europa League con un terno 5 20 e 78 sono i numeri del terno di Maria ecco quindi una Juventus le tre marie come ti anticipavo prima e praticamente pensa anche a questo punto al pronunciamento del collegio di garanzia del CONI che potrebbe accogliere il ricorso restituendole i 15 punti potrebbe essere anche fantacalcio però questa è una considerazione forte di un pronunciamento a proposito delle plusvalenze di cui si parla parallelamente tanto delle plusvalenze fittizie per le quali c'è l'impossibilità di stabilire un valore reale ad un bene immateriale e le plusvalenze sono un bene immateriale però Liliade mi è piaciuta tantissimo manente degli Umberti vabbè Luca le tue rubriche quindi non perdiamo tempo andiamo con la top 11 allenata dal Farinata degli Umberti l'Opera Gasparini Potenza Calapai Crotone Fazio Catanzaro Ferrara Messina e Savini Fidelisandria centrocampo a tre Van de Putt Euliano Costa rispettivamente Catanzaro Gelbison e Foggia davanti Sorrentino Marotta e Golfo del Picerno ti piace quest'undici Emanuele? ha detto una cosa chiesto prima a lui e non ci l'ho fatta io tu l'hai fatto ma voglio prima di pratica aspetta fammi sentire se gli piace e dici vai no a me piace piace molto ma Iammello c'è? no no vabbè lo mettiamo sempre giustamente lo possiamo mettere tutti e due ha voluto segnare qualche elemento un po' diverso ho messo Van de Putt però Van de Putt è quinto non è una mezzala però è più un però vabbè l'ho messo proprio per intendo e questo volevo dire perfetto promosso top e flop di giornata andiamo a vedere allora sale Gallo e scende canonico abbiamo sentito le ragioni di Luca nella valutazione di questa querella ha voluto definirla così Luca con Gallo che sale e canonico che scende ci sono anche Viterbesi Palermo che ha ritratto Virtus Francavilla Crotone cosa non ti è piaciuto Luca in questa direzione? il provvedere il provvedere disciplinare il secondo che è stato praticamente espulsione al giocatore della Francavilla non era da espulsione a Caltino Rosso ma bensì solo giallo quindi ha sbagliato e quindi praticamente è anche il secondo il gol del Crotone secondo me era in fuorigioco era più fallo che fuorigioco un fallo sul difensore quindi credo che il Crotone non ha bisogno di questi aiuti allora non rispecchia il fatto di essere figlio d'arte perché sa io sono arbitri è una discendenza perché il papà è il presidente del CRA Sicilia perfetto questa informazione era dove nuova indispezzabile allora andiamo a vedere il prossimo turno non abbiamo parlato abbondantemente però vediamo quadro completo Avellino Virtus Francavilla sabato alle 14 così come Crotone Turris Gelbison Giuliano Juve Stabia Catanzaro Latina Messina e Viterbese Picerno alle 17.30 invece Cerignola Pescara Fidelissandria Foggia Monopoli Monterosi e Potenza Taranto la partita che ti affascina di più Emanuele credo che c'è quel Gelbison Giuliano Bella anche Juve Stabia Castanzaro ha le sue ragioni per il resto no no sono molto curioso ho dell'Avellino c'è un Cerignola Pescara pure la terza contro la quarta o meglio la quinta perché adesso quarta è il Foggia il Foggia invece io cosa vai a vedere? forse no sono combattuto tra Avellino e Castellammare no Agropoli ah Agropoli al mare io volevo una provocazione Annibale sì però hai 20 secondi per farlo dipende dalla sua risposta cioè siccome va sempre allo stato d'Avellino e l'Avellino perde sempre non c'è andare a questa settimana è la morte è la morte lo fai da casa ho capito lo faccio devo fare la stella live quindi non posso andare live ma tu è meglio che non ci vedi perché non sei ben voluto un paio di volte quando sei andato a Avellino l'ho vinto quindi vuoi innescare è la tua pochezza facciamo così andate tutte e due e prendetevi un caffè va bene? allora la Roma è avanti sempre 2 a 0 con il Salisburgo la Fiorentina la raddrizzata 2 a 2 contro il Braga ci fermiamo qui grazie ad Emanuele Danna grazie a voi e grazie ad Annibale e Luca nonostante tutto dico io questi continui screzi buonasera grazie per averci sopportato però mi sono mancati questi screzi giovedì no francamente no va bene va bene grazie regia a Enrico Coppola e a Giuseppe Andrite è tutto ci vediamo giovedì prossimo arrivederci buonasera buonasera buonasera